E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DiegoFire05 e oggi siamo sul secondo video di questo giorno Dopo di questo video ragazzi ne usciranno altri due, solo che non saranno gameplay Forse ragazzi, buh non lo so Quindi siamo tornati su NetForSpeedRivals Siamo sul secondo episodio E in questo episodio ragazzi faremo la stessa cosa che abbiamo fatto nello scorso Prima la prova a tempo e poi la gara Allora quindi la prova a tempo, prova a tempo Questa no E' stadio Dobbiamo fare questa difficile dai Ok Bene, iniziamo ragazzi Ho notato Lamborghini Veneno Via Allora Tempo per taglio 3 minuti e 25 Va bene Forza Lamborghini Veneno Andiamo nella stazione così a caldo Poi Buongiorno, polizia. Bella la canzone sottofondo, però, raga. Oh, get it! Alla madonna, get it! Sospetto fuori portata. Ok, ora scappiamo pure. No! Ma dai, ma che figura di merda ogni volta stimpazzo, del cazzo. Sono anche fuggito, vabbè. Cacciamo tutto, dai! Oh, oh! Merda, cazzo! Sono povera, raga, che morta! Oh, oh! Merda, cazzo! Oh, oh, oh! Ma va a fanculo, va! Eh, vabbè! Alla madonna, che cazzo! Eh, buono! Eh, buono! Eh, buono, ragà! Avevo preso il bronzo! va bene siamo fatti io non c'entrò l'ultimo non fa niente va bene va bene va bene va bene va bene va bene no stessa stessa sbagliato vabbè allora mi ho fatto una mezza figura di merda vabbè ma tanti c'entrò abitato ma che impatto prima si è mezzo cioè all'impatto di prima se è mezzo ha buggato il gioco ma vabbè prossima macchina direi di utilizzare boh ah non lo so io utilizziamo a me ci mi decidero un po' raga la pagani questa macchina è stata anche nella mia top ten delle mie auto preferite nello scorso video anche la Lamborghini Veneno come la Enzo la P1 va beh lf12 ma sta che era un po' difficile ragazzi quindi la figura di merda potrebbe esserci pronti pronti siamo pronti ragazzi dai entro oggi magari sto caricamento che ne dici eh Rivals entro oggi eh ok pronti ma me l'ho detto un milione di volte però vabbè ma io penso che non è giusto che posso senta la fermo guarda quel cretino vado che cazzo è successo ma che cazzo è un po' di pioca ma boh a tutte le unità il seguimento è in corso di 10.41 la gente chiede rinforzi abbiamo come come dentro la collegia dietro i coglioni più o meno ecco pareva a tutte le unità il soggetto è fuggito tornate di battuglia ok fu fuggito andiamo entro fuggito ragazzi è fuggito Ok, ok, ok Ah, ya Come on, da con l'inco Perfetto ragazzi E direi che con il video di NAND4SPEED RIVALS Il secondo video del giorno Possiamo concludere qui Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando in questo 2019 Arriviamo a 40 iscritti Ve lo Ve lo prego E quindi ragazzi Dico per 05 Con questo video Il video è finito E quindi ragazzi ci saranno altri due video Che gli altri due video non saranno gameplay Forse ragazzi Non so se c'è un altro gameplay sul computer Ora che vedrete Vedrete dopo Ora non so che fare Quindi Dico per 05 è tutto Ci vediamo al prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video